il signore è pietoso e clemente lento all'ira e ricco di bontà egli non contesta in eterno né serba la sua ira per sempre egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe come i cieli sono alti al di sopra della terra così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono salmo 103 versi 8 a 11